Buon FIFA a tutti ragazzi, sono Ricky per Ultimate Team FIFA Italia e siamo qui oggi con il settimo episodio del Dybala Road to Argentina Perfect Team e nell'episodio precedente vi avevo chiesto di scegliere fra questi quattro giocatori e direi che a pieni voti sono promossi Tevez ed Otamendi quindi Otamendi lo mettiamo subito qui e poi Tevez in posizione di attacco al posto di Vietto perché Dybala non si può toccare Allora, questa è la squadra con i due oro upgrade e quindi direi che possiamo subito andare a cercare la prima partita Ecco qui il primo avversario, vediamo un po' che squadra è Baggin, Atacopa, Bonnie, Barbo e poi tutto colombiano, vediamo un po' che riusciamo a combinare Oddio santo che gol E che ci vuoi fare quando Ibarbo ti fa un gol del genere puoi solamente guardare purtroppo Andiamo sotto al secondo minuto, rivediamo il gol I miei difensori un po' molli e poi boom alle spalle del portiere, 1-0 ma noi dobbiamo vincerla questa partita contro il bug Vai Vangioni, ripartiamo, dobbiamo fare gol Dai Itzko, Carlitos, serve Dybala, dai Dybala, ti prego, troppo lento ma riesce a con una skill a superare l'avversario Ancora lui, no, fermato È la 72esima pausa che mette questo Ci muoviamo No, occhio a questo langio lungo tra l'altro Lagga un sacco 2-0 al 19esimo nel super lag praticamente E purtroppo Ci punisce anche Pavon Dai con questo langio Purtroppo questo lag non ti fa capire niente Oddio Itzko E c'è Dybala Gol della merda scusate Ma nel lag bisogna fare anche questo Assolutamente E siamo 2-1 A 44esimo Oddio la profondità Anticipato E finisce il primo tempo 2-1 per lui Diciamo risultato che non è molto meritato A mio avviso Però Andiamo a vedere un pochettino le statistiche Ecco qui Diciamo sì Magari leggermente meritato Ma niente di che Proviamo a vincere in questo secondo tempo Mia Carlitos Ho visto la palla filtrante Vai Vazquez Non ti farà anticipare Oddio Centurion Bella questa palla Vai Carlitos No non è possibile che io gioco Lui non fa niente Fa un'azione in velocità e via Vedi 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 No vabbè come l'ha presa sta palla Non ci posso credere No vabbè Immeritatissimo questo 3-1 di Barbo Immeritatissimo Dai Dai Vazquez E c'è la rete Purtroppo 3-2 al novantesimo Partita Persa ma Immeritata Al massimo E finisce qui la partita Purtroppo perdiamo ma ripeto È immeritata Vediamo un po' i dati Che magari potrebbero anche non darmi ragione Ma secondo me È assolutamente Immeritata Ecco qui i dati Direi che tutto sommato Non è meritata Quei tiri Tutti fuori Da lontanissimo Però vabbè Andiamo a giocare la seconda partita Ecco qui il secondo avversario Vediamo un po' che squadra ha Attenzione Ciccao in Ani Kelvin Quindi schillatore Vitigno Bella squadra Parte subito forte Tevez Vai Tevez E Carlitos Nessuno si fa vedere Purtroppo Vede Di Bala Anticipato Nooo Ma perché trovo sempre Le partite dove laggano a bestia Cioè due di fila Puoi Mamma mia Perotti Che giocatore Vede Tevez Vai Carlitos Entra in aria Niente Anticipato Subito Al momento del tiro Mette pausa Dai Dai Otamendi Bello il recupero Vai Tevez Tevez Oddio E vabbè Trovo Gli uomini pausa Praticamente E niente ragazzi Rage quit Dell'avversario Non so per quale motivo Però È rage quit E quindi Finisce qui Questa partita Allora ragazzi Eccoci qui Ora dobbiamo decidere Sempre Per Due giocatori Nei quattro Che vi propongo Allora Vi propongo Pastore In Forno Zabaleta Correa E in Sua Quindi terzino sinistro Due COC E un terzino destro Allora Decidete voi Nei commenti Come sempre Quali due giocatori Scegliere Tra questi quattro Ovviamente I più votati Verranno scelti Bene Il video finisce qui Ragazzi Lasciate tantissimi like Iscrivetevi al canale Passate per la pagina Facebook E il gruppo In descrizione E niente Spero che l'episodio Vi sia piaciuto E noi ci vediamo In un prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti